Milan-Lazio non è solo una semifinale di Coppa Italia per la squadra di Simoninzaki, è molto di più. La squadra, i giocatori, devono dimostrare di aver capito gli errori commessi in queste ultime quattro partite, di essere un gruppo solido, di essere una squadra capace di vincere partite importanti e di farsi perdonare soprattutto questa incredibile serie di risultati negativi. Quindi, ricordiamo, dopo la vittoria San Siro contro l'Inter, la Lazio era quarta e aveva in mano il destino per la qualificazione della Champions League, poi è riuscita a perdere contro la Spal il Chievo già retrocesso e pareggiare contro Sassuolo. Quindi, secondo me, la partita di Coppa Italia contro il Milan non è solo una semifinale per la Lazio, ma molto molto di più. Dovessero fallire anche questo obiettivo, insomma, la partita non è sicuramente facilissima, ma non ci dovesse essere la reazione, non ci dovesse essere una performance all'altezza. Credo che quest'estate molti giocatori della Lazio lasceranno la capitale, verranno cercati di essere piazzati in altri liti perché confermerebbero quelli che sono i limiti di questa rosa, ovvero una rosa magari tecnicamente valida, ma senza giocatori, con la giusta mentalità, con la giusta determinazione, con il giusto carattere per vincere partite veramente importanti, come quella della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Una finale che per la Lazio sarebbe importante perché aprirebbe le porte per l'Europa League che in campionata adesso diventa sempre più difficile dopo la vittoria dell'Atalanta contro il Napoli. Insomma, la situazione per la Lazio si fa sempre più complicata, ma più che pensare ai trofei, più che pensare all'Europa, ci vuole una prova di carattere. E' questo che è quello che Inzaghi chiede ai propri giocatori, una dimostrazione di aver capito i propri errori, una dimostrazione di capire che giocare con la maglia della Lazio è una responsabilità importante e che i tifosi della Lazio si aspettano di vedere i giocatori vincere e giocare bene le partite importanti. E poco importa che davanti c'è il Milan, il Chievo Sassuolo, se la partita è importante bisogna dare tutto. Ecco, questo non si è visto nelle ultime partite da parte dei giocatori della Lazio, contro il Milan bisogna vedere una reazione del genere.